Ciao ragazzi e ragazze, come vedete dal titolo, questo è un video in collaborazione con altre due ragazze youtuber allora con Rosy Vlog e Giacchi Tabacco e Venere e niente ragazze, sono contenta di fare questa collaborazione dei preferiti del mese di febbraio in collaborazione con Rosy e con Giacoma linko i loro canali nell'info e box, mi raccomando andate a vedere i loro video e niente ragazze, quindi vediamo quali sono stati i preferiti del mio mese di febbraio allora cominciamo con il make up allora per quanto riguarda il make up allora la cosa che più ho usato in questo mese ho notato che ho usato più, allora io l'ho rivalutata questa tinta labbra della Yves Rocher quindi ho usato molto di più la tinta labbra che il rossetto rivalutandola, naturalmente leggermente come quasi tutte le tinte labbra sicca leggermente un poco 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 le labbra però basta mettere un poco 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 di burro cacao e è perfetta è bellissima, mi piace tantissimo perché sembra proprio di avere il bello non la senti proprio questa tinta labbra di Verocher questa è Gran Rouge e Lexile e questo è il numero 106 è il 106 e quindi ho usato molto più la tinta che il rossetto ho notato proprio questa cosa e quindi è molto pure molto bella io adoro soprattutto i muli rouge e i rossetti di Verocher quindi diciamo che mi trovo quasi con tutti i prodotti soprattutto del make up intendo perché sono un po' scocciante io con i rossetti usando solo il rossetto vado in cerca proprio di cioè i rossetti, più rossetti in poche parole poi lo smalto del mese allora io lo smalto difficile prima usavo molto di più quelli colorati però mi durano troppo poco e quindi questo mese io ho molti smalti sempre della Ivorcher però quelli vecchi e ne tengo ancora parecchi e quindi la maggior parte uso tutti questi qua un poco poco più chiari questo infatti è vecchio è tipo panna quindi ho usato questo perché mi dura molto di più e più facile non essendo colorato come avete visto dal video nuovo sto comprando gli smalti nuovi di Ivorcher perché devo fare un poco di provvista perché tengo proprio pochi smalti e quindi ho usato questo qui infatti questo non c'è proprio più poi vediamo un poco allora la colazione del mese perché a me mi piace molto la colazione allora allora io amo questi biscotti qui gli Ottimini gli Ottimini classici ma che sto combinando allora della Tivella sono troppo buoni questi biscotti e quindi ho mangiato molto più biscotti che diciamo poi mi mangio anche come quando vedete dalla spesa pure come si chiamano quelli della i Plum K pure mi piacciono parecchi però ho mangiato molto più i biscotti questo mese e questi sono troppo buoni quindi e questo è un altro stato un altro mio preferito poi per quanto riguarda i prodotti invece ne tengo due allora io sono innamorata folle di questo doccia crema della Yves Rocher allora ora è parecchio che non uso più i bagnoschiuma perché comunque meno male che Teresa mi ha dato i campioncini allora sono belli non tutti però perché ci sono delle profumazioni troppo forti e invece io mi trovo con delle profumazioni più mamma mia questo qui non è né forte ma è bellissimo e questo allora siccome io non uso la crema corpo lavando facendo la doccia con questo automaticamente essendo una crema è come se tu hai passato anche la crema dopo cioè io per esempio se dovessi scegliere fra quelli lì profumati e questo io compro sempre questo però ci sta uno della Sensi Tib Rosa che vorrei provare perché ci sono quelli al cocco che mi piace però diciamo non preferisco proprio tutti quei profumi perché è un problema mio però a livello di bagnoschiuma e questo mamma mia è bellissimo infatti questo è la quarta volta che lo compro qua finisce qua lo compro perché mi trovo proprio benissimo con questo qua un altro prodotto pure a livello di shampoo che io tengo la fissa dei capelli perché non so non ce la faccio più con questi capelli non riesco a trovare uno shampoo come si deve e questo qui è quello lì alla vena però l'edizione vecchia perché lo voglio lo volevo finire un poco quindi ho visto che ho usato molto più questo rispetto a quello là che tenevo di là allora quello di la Shogun non mi trovo proprio di Lamo Makeup che tenevo anche l'altro shampoo quello di Lamo è molto buono però visto che rispetto a quello ho lavato i capelli più che questo nonostante ciò comunque i capelli mi si stanno sporcando molto più velocemente ora o perché si sono fatti più lunghi non lo so però non ho trovato ancora quello shampoo che dico evviva ho trovato lo shampoo miracoloso cioè perché i capelli mi si stanno sporcando di nuovo dopo 3-4 giorni e invece io i capelli prima mi duravano molto più tempo ma quando li tenevo più corti si sporcavano pure molto prima invece ora si ingrassano di nuovo più velocemente vediamo ora che prenderò gli shampoo nuovi della Ivory e vediamo come mi trovo magari vi faccio sapere poi quando comincerò a usare gli altri shampoo e questi sono i due prodotti poi invece abbiamo accessorio del mese allora l'accessorio mio del mese ogni mese io quando esco non esco sempre senza il rosario che mi ha regalato mia sorella monica questo qua è argento e quindi vicino a questo che lo tengo sempre metto quell'accessorio particolare che uso di più e io ho usato questo qui con le stelline allora ragazze talmente che mi piace questo che è diventato nero che è diventato nero naturalmente io me lo metto sempre con i maglioni a collo alto perché sono allergica e sono andata a vedere sono andata infatti a vedere dove vado a comprare il mio materiale creativo perché sulle bancarelle è vicutteria quindi non è buono e mi devono fare arrivare in acciaio le catene le stelline quindi ho prenotato tutte queste cose anche perché devo fare la stessa catenina anche a Rosy perché Rosy mi ha chiesto la catenina che la vuole a doppio però mi ha fatto vedere una fotografia e quindi la devo preparare anche a lei e poi me la devo fare io perché io mi sono innamorata di questa catenina con le stelline ma deve essere in acciaio e quindi ho prenotato ho ordinato queste cose in acciaio perché i gioiellini miei li farò sempre d'acciaio ormai costano poco di più però ragazze l'acciaio non si smuove ecco invece questa si è fatta tutta a scura e quindi però sono troppo affezionata mi piace troppo e quindi vicino al rosario che vi farò vedere sempre ogni mese metto un altro accessorio poi allora poi la borsa del mese perché io amo le borse allora questa è la borsa che ho usato di più in questo mese ragazze questa sembra piccola questa è una prima classe e questa mi è stata regalata era stata regalata a mia sorella Monica per un compleanno mia sorella queste marche non le usa proprio e quindi e quindi me l'ha regalata a me ho preso il terno perché la amo questa borsa infatti mi piacerebbe avere pure quella più grande sempre però non lo so magari chissà se me la potrò comprare un poco 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 più grande vi farò cosa c'è nella mia borsa questa qua vi faccio vedere quante cose entrano in questa borsetta è una cosa sembra la valigio di Mary Poppy perché sembra piccola ma ci entra veramente guarda io la amo perciò la stramo perché sembra piccolina ma enorme proprio ci fa un sacco di roba veramente addirittura ci entra la bottiglina d'acqua quindi veramente è bella capiente e la amo questa borsa perché è l'unica borsa vera poi che tengo perché poi dopo non sono vere allora poi allora altre due cose poi io adoro le candele ragazze e quindi vedrete queste saranno comunque le domande che io vi farò vedere la candela del mese è questa qui gialla infatti mi devo comprare un'altra devo comprare certe bianche vedete pure altre candele questa qui mi piace tantissimo quindi l'ho accesa a varie volte questa candela qua io non mi ricordo dove l'avevo comprata questa qua però però voglio comprare quelle lì di Ikea più particolari allora poi il colore che ho più usato allora il mio colore preferito è il verde quindi ci sarà sicuro sempre qualche cosa qualche cosa di abbigliamento di verde verde e rosa questi sono i due colori ho usato molto il verde ho usato questo ho messo questo maione che mi piace tantissimo è fatto tutto brucherellato è tutto brucherellato così con questi filamenti dentro brillucicosi a me mi piacciono un sacco è fatto tipo largo e sotto metto come si chiamano i maglioni a collo alto e con il jeans di solito me lo metto questo qui è bellissimo questo verde petrolio io adoro il verde quindi è fatto così quindi questo qui lo metto proprio spesso veramente infatti questo è uno dei maglioni che metto spesso allora e quindi è il verde è il verde il mio colore più usato poi ultima domanda che vi faccio fare che fular uso perché io amo i fular allora quello che ho usato di più è questo perché a me mi piace ragazze adoro il maculato a me non mi piaceva però mi piace o come accessorio tipo una borsa o il fular non mi piace a livello di vestito di abbigliamento il maculato mi piace come accessorio o come orecchino o con una cinta o il fular o la borsa non da indumento da indumento no e poi ragazzi io amo i fular io non esco ma pure l'estate tengo i fularini perché io è uno degli accessori che mi piace proprio assai il fular e niente come orecchini no invece non ho messo proprio nulla perché non me li metto solo se devo andare da qualche parte e niente ragazzi questi sono i miei stati miei preferiti del mese e niente andate a vedere il video di Rossi e il video di di Giacoma iscrivetevi al loro canale perché fanno dei video molto interessanti e a me mi piacciono tantissimo e niente ragazze spero che questo video che faremo in collaborazione ogni mese vi farà da piacere e così è un'altra bellissima collaborazione e niente mando un bacio a tutti e al prossimo video grazie a tutti